Uno dei capitoli più importanti e più complessi della storia del XVII secolo è la guerra dei Trent'anni, che è un'espressione con cui si indicano una serie di conflitti che esplosero in Europa tra il 1618 e il 1648 ed ebbero come campo di battaglia principale soprattutto il territorio dell'impero di Germania. È un fenomeno storico importante perché alla metà del Seicento ridisegna, ridefinisce gli equilibri di potere all'interno dell'Europa, infatti in questa video-lezione non ci soffermeremo troppo sui singoli eventi bellici, sulle singole battaglie o sulle varie fasi della guerra che sono molto lunghe, molto complicate, ma cercheremo di offrire uno sguardo d'insieme a questo conflitto e spiegare perché è così importante e cosa cambia con la pace di Vespaglia dopo la guerra dei Trent'anni. Dunque, innanzitutto è importante tener conto del fatto che la guerra dei Trent'anni è una guerra di religione, scoppia almeno come una guerra di religione, in un contesto, quello dell'impero di Germania, segnato da una profonda frammentazione a livello religioso. Ricordatevi, un secolo prima, nel XVI secolo, nel 1500, la Germania era stata scossa dalla riforma protestante di Lutero, da allora erano iniziate una serie di guerre civili, di scontri fra protestanti e cattolici all'interno del territorio dell'impero, fino ad arrivare alla pace d'Augusta. La pace d'Augusta era basata sulla legge cui us regio è aius religio, ovvero ogni principe, ogni sovrano all'interno dello stato dell'impero tedesco, dell'impero di Germania, aveva il diritto di stabilire ed imporre la propria religione sui suoi sudditi. Ricordate anche che l'impero di Germania, ovvero il Sacro Romano Impero, era una federazione, ovvero un insieme di regni, di principati, riuniti in qualche modo sotto l'autorità imperiale, che era una carica elettiva. Il personaggio che provocherà la guerra dei trent'anni è la figura rappresentata in questo ritratto, ovvero Ferdinando d'Asburgo. Gli Asburgo, come ricorderete, erano la principale dinastia all'interno dell'impero di Germania, erano la stessa famiglia di Carlo V d'Asburgo, il grande imperatore del 1500. Ferdinando era il fratello dell'attuale imperatore, aveva ereditato il ducato d'Asburgo, che più o meno corrisponde all'attuale Austria a grandi linee, ma nei suoi domini rientravano anche il regno d'Ungheria e la Bohemia. La Bohemia ancora oggi è una regione della Repubblica cieca. Ora, qual era il problema? Ferdinando era rigidamente cattolico, fermamente cattolico, ma fra i suoi domini c'era anche la Bohemia, in cui invece la religione più diffusa, tra la nobiltà e tra il popolo, era quella protestante. Fino ad allora non era stato un problema particolare, perché in Bohemia era stato consentito di continuare a professare tranquillamente il protestantesimo e luteranesimo. Se non che invece, quando nel 1617 Ferdinando viene incoronato re di Bohemia, inizia a imporre con la forza il cattolicesimo, ad esempio ostacola dei progetti di costruzioni, di luoghi di culto del protestantesimo, si mostra molto ostile verso la nobiltà protestante all'interno della Bohemia, e quindi si crea questa tensione altissima fra i nobili boemi e il popolo e il loro nuovo sovrano, che fra l'altro nel 1619 otterrà anche la carica di imperatore, quindi Ferdinando diventerà Ferdinando II, imperatore del Sacro Romano Impero. Ma già un anno prima dell'elezione di Ferdinando a imperatore, e cioè precisamente il 23 maggio 1618, si era verificato un episodio che sarà la miccia che provocherà l'esplosione della guerra dei Trent'anni. È un episodio molto famoso, passato alla storia come la defenestrazione di Praga. In cosa consiste? Nel castello di Praga erano stati inviati due ambasciatori di Ferdinando, re di Bohemia, due non governatori, che però vennero attaccati dalla nobiltà boema che prese da sedio il castello, e in segno proprio di umiliazione nei confronti del loro nuovo sovrano di Ferdinando d'Asburgo, gettò questi due governatori e il loro segretario fuori dalla finestra del castello. La defenestrazione era una pratica in realtà molto utilizzata in Bohemia, e questo episodio particolare appunto rimarrà molto famoso e darà inizio al conflitto aperto, anche a livello militare, tra Ferdinando d'Asburgo, che manderà a questo punto le proprie truppe contro i nobili boemi, e quella unione di principi, di aristocratici, di fede protestante, che soprattutto dall'anno dopo, cioè quando nel 1619 Ferdinando diventa imperatore di Germania, si vedono messi a rischio, perché Ferdinando il suo grande progetto era quello di riunificare a livello religioso l'impero di Germania, quindi consolidare il proprio potere di imperatore e imporre la religione cattolica, nuovamente, a tutti quei territori della Germania, dove invece si era ormai consolidato da quasi un secolo il protestantesimo. Per questo diciamo che la guerra dei Trent'anni scoppia come una guerra di religione, anche se di lì a breve subenteranno molti interessi politici. Nei suoi primi sette anni, dal 1618 al 1625, questa guerra dei Trent'anni rimarrà prevalentemente una guerra interna al territorio dell'impero di Germania, tant'è che di questa prima fase di guerra si parla come della fase boemo-palatina, perché sostanzialmente si combatte tra due fronti. Da una parte ci sono le truppe di Ferdinando II d'Asburgo, quindi poi le truppe imperiali, insieme ai vari principi cattolici della Germania, insieme anche alle truppe spagnole, perché ricordate che gli Asburgo erano legati strettamente alla monarchia spagnola, erano imparentati proprio con i sovrani di Spagna. Dall'altra parte c'è la Confederazione Boema, ovvero quell'unione di principi e sovrani protestanti che vedono a capo appunto la nobiltà boema e il Palatinato. Il Palatinato era uno degli stati dell'impero di Germania fortemente protestanti e quindi il Palatinato e la Bohemia guidano in qualche modo l'opposizione contro l'imperatore Ferdinando II. Questa prima fase del conflitto si rivela particolarmente favorevole per la fazione cattolica, la fazione di Ferdinando II, che anche grazie all'aiuto, al contributo importantissimo delle truppe spagnole, riesce a sconfiggere soprattutto da un certo punto in poi ripetutamente le truppe protestanti. In particolare è famosa la Battaglia della Montagna Bianca che si combatte l'8 novembre 1620 nei pressi di Praga. Praga mi ricordo era il cuore della Bohemia. Ma queste ripetute vittorie di Ferdinando II cominciano a impensierire, a preoccupare molto gli stati stranieri, cioè gli stati confinanti o comunque vicini all'impero di Germania. Che succede dunque? Nel 1625 apparentemente la guerra avrebbe potuto risolversi con la sconfitta della fazione protestante, se non che la guerra dei trent'anni, la futura guerra dei trent'anni, perché questo nome ovviamente le sarà attribuito dopo, si trasforma da un conflitto comunque interno alla Germania in un conflitto su scala internazionale, cioè un conflitto che coinvolge in pratica mezza Europa. Perché vari paesi cominciano a intervenire in maniera sempre più aperta e anche militarmente con un impiego sempre più massiccio di truppe nello scontro con Federico II d'Asburgo, l'imperatore d'Austria, e quindi con la Spagna anche fermamente alleata degli Asburgo. Chi è che in particolare interviene fin dalla metà degli anni venti contro Ferdinando d'Asburgo? Intanto Cristiano IV, che è il re di Danimarca e Norvegia. Cristiano IV era sovrano di un regno in cui il protestantesimo già da un secolo era diventato la religione prevalente. Cristiano quindi da una parte si vede messo in pericolo dall'ascesa di questo impero che rischia di tornare a essere totalmente cattolico con un sovrano, un imperatore anzi così ambizioso. Tra l'altro la Danimarca appunto confina tuttora con la Germania e confinava con l'impero di Germania all'epoca. Inoltre Cristiano pensa bene di sfruttare questo momento di crisi interna dell'impero di Germania per ottenere anche dei vantaggi territoriali, dei vantaggi politici. Per quello è importante capire che la guerra di Trent'anni è sì una guerra di religione, ma è anche e soprattutto una guerra con interessi politici e territoriali. Tant'è che contro il cattolicissimo Ferdinando II, paradossalmente, si schiererà anche la cattolica Francia, su cui regna in quel periodo Luigi XIII di Borbone, ma il cui vero leader politico in realtà è il cardinale Richelieu, un ecclesiastico cattolico quindi, che si ritrova a fungere da primo ministro, da guida della politica francese durante il regno di Luigi XIII. E perché entra in guerra con Ferdinando II, pur essendo entrambi cattolici? Per motivi politici, perché la Francia si trova a essere in qualche modo racchiusa tra la Spagna, una potenza comunque ostile, e l'impero di Germania, in cui gli Asburgo stavano acquisendo un potere quasi illimitato dopo le vittorie contro i protestanti. Quindi Richelieu, molto ambizioso anche lui, pensa bene di entrare in guerra con l'imperatore di Germania. Poi sul cardinale Richelieu potrete trovare anche un altro approfondimento dedicato proprio a questo personaggio, che è un personaggio fondamentale della storia europea del XVII secolo. Allora, questo tentativo della Danimarca di contrastare l'impero di Germania, sfruttandone le debolezze interne, in realtà si rivelerà un fallimento. Infatti l'esercito danese verrà sconfitto ripetutamente dalle truppe imperiali, la Danimarca si ritirerà da questa guerra, ma in compenso subentra un'altra potenza, un altro regno della Scandinavia, ovvero la Svezia, guidata da Gustavo II Adolfo, un sovrano molto importante, che verso il 1630 entra in guerra con Ferdinando II, con un esercito super preparato. Tra l'altro Gustavo II morirà proprio in battaglia nel corso della Guerra dei Trent'anni, nel corso degli scontri con le truppe tedesche. Ci sono quindi altri anni di guerra, di conflitto, che giungono a un momento di pausa nel 1635 con la pace di Praga. Dopo la morte di Gustavo II, infatti la Svezia non se la sente di continuare a oltranza questo conflitto di cui non si vede la fine, e si giunge a un accordo con Ferdinando d'Asburgo. Gli scontri però non finiscono qui, infatti proseguiranno comunque negli anni successivi, la Francia continua a combattere. Nel frattempo, nel 1637 Ferdinando II muore, gli succede il figlio Ferdinando d'Asburgo, Ferdinando III d'Asburgo, che quindi assume anche la carica di imperatore, che ormai praticamente è diventata quasi una carica ereditaria appartenente alla famiglia degli Asburgo. Gli Asburgo sono in questo momento quasi onnipotenti nel territorio della Germania, ma stanno sostenendo un conflitto che sta pesando tantissimo sulla popolazione tedesca, sui vari territori della Germania. È un conflitto che ormai va avanti da vent'anni. Ripeto, continua anche dopo l'elezione di Ferdinando III, quindi arriverà a trent'anni in totale. Un periodo nel corso del quale le truppe, truppe composte prevalentemente o in gran parte da mercenari, tra cui i cosiddetti lanzicanecchi, spesso compiono saccheggi, rapine, omicidi anche nei territori che attraversano. Fra l'altro, proprio queste, durante le fasi belliche della guerra dei trent'anni, avvengono delle epidemie, la diffusione dell'epidemia della peste bubonica, che Alessandro Manzoni, scrittore italiano del 1800, racconterà magnificamente nella parte finale dei Promessi Sposi. Epidemie quindi di vario tipo che si diffondono anche e soprattutto in Nord Italia, in Germania, si svilupperà la sifilide, altra malattia trasmissibile. In più, questa guerra accentua una crisi economica già in atto, una guerra così feroce, così devastante, provoca un crollo demografico, fa sì che ci siano meno coltivazioni, che anche l'agricoltura rallenti tutto il settore dell'economia. Rallentando l'agricoltura, diminuendo i raccolti, si arriva anche a una fase di carestia. L'Europa della guerra dei trent'anni è un'Europa segnata in molte aree, da carestia, da assenza di cibo, da carenza di cibo e quindi da malnutrizione, dal malcontento della popolazione. Si crea una situazione di malessere, che infatti è stata definita poi dagli storici la crisi del 600, proprio per parlare di questo devastante periodo che ha portato a milioni e milioni di morti, soprattutto in Germania, ma un po' in tutti i paesi coinvolti dalla guerra. Costretto dunque a far fronte alle truppe protestanti, all'esercito francese, ma anche alla partecipazione delle province unite d'Olanda e addirittura soldati dall'Inghilterra e dalla Scozia, mandati a contrastare gli Asburgo, Ferdinando III nel 1648 accetta di interrompere un conflitto ormai che ha esasperato la popolazione e firma la pace di Vespalia, che segna la fine della guerra dei trent'anni, anche se in realtà continueranno ancora per un decennio delle lotte, delle battaglie tra la Francia e la Spagna. Dalla pace di Vespalia escono rafforzate la Svezia, le province unite, che vengono riconosciute a tutti gli effetti come uno stato indipendente, corrispondono più o meno all'attuale Olanda, ai Paesi Bassi, il Regno di Francia, che diventerà davvero la potenza egemone d'Europa a partire dalla metà del 1600. La Francia ormai è lo stato più potente d'Europa. Questo anche perché la pace di Vespalia segna in pratica la dissoluzione del Sacro Romano Impero. L'impero di Germania continua a esistere formalmente, ma a questo punto, dopo questa durissima sconfitta, la carica di imperatore non ha più un valore autentico, non ha più un autentico grande peso politico, ma rimane soprattutto come un titolo simbolico. Gli Asburgo, la famiglia di Gli Asburgo, continuerà ad avere un grande potere, ma un potere legato ai propri territori, ovvero l'Austria, l'Ungheria e la Bohemia, comunque possedimenti enormi, ma per quanto riguarda l'impero avremo in realtà una frammentazione sempre più profonda dal punto di vista politico tra i vari regni e i vari principati tedeschi. L'impero, in pratica, continua a esistere, ma non esiste più.